Amici Trevi Meteo, benvenuti all'assaggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato, che è un po' la giornata della svolta. Finalmente una perturbazione riesce a passare sull'Italia, perturbazione comunque abbastanza veloce, ma porterà un po' di piogge. Controlliamo la situazione nuvolosità con queste nubi che arrivano appunto sul nostro paese, da prima al centro nord e poi l'ammirano anche le regioni meridionali. Comunque in giornata è atteso anche un miglioramento al nord ovest sul versante tirenico, perturbazione piuttosto veloce. Un'occhiata orale precipitazioni, piogge in arrivo da prima al nord, poi nell'Italia centrale, infine anche al sud, al sud è più che altro sul versante tirenico, però come dicevo perturbazione veloce, quindi in giornata un'attenuazione delle piogge prevista già al nord ovest e sul Tirreno e poi al fine giornata la perturbazione lascia l'Italia. Comunque in definitiva ci attende un sabato molto movimentato, tornano appunto precipitazioni diffuse, anche se il passaggio sarà abbastanza rapido, piogge comunque bene o male da nord a sud, ma più insistenti sulle regioni di nord est e nell'Italia centrale. Invece minore probabilità di pioggia sulle isole maggiori e poi come vi dicevo in giornata è atteso anche un miglioramento al nord ovest, perturbazione comunque che ha il grande merito di pulire un po' l'aria così sporca delle nostre grandi città. Con questo è tutto per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.